Certe volte quello che ci attrae potrebbe nascondere qualcosa di pericoloso ed è per questo che oggi ti parlerò di Barberwood subito dopo la sigla Ben ritornato come stai? Allora oggi è arrivato il momento di parlarti di questo set da barba veramente particolare affascinante e trascinante perché no vabbè andiamo a aggiornare al calendario oggi è il oggi che è 11 11 a sta per iniziare la scuola non vedo l'ora non può capire quanto non vedo l'ora sempre settembre oggi è mercoledì sì mercoledì mercoledì vabbè stavo io in una situazione proprio di intontimento totale allora come visto nella prima parte dell'inizio del video oggi toccherà ad Ax Greco Barberwood una cosa spaziale spettacolare lo dico subito fragranza secondo me più autunnale invernale poi sono gusti eh allora cosa c'è di intraprendente in questo in questo sapone intanto l'etichetta che l'etichetta è bellissima cioè è proprio bellissima perché c'è un chiaro riferimento no chiarissimo riferimento a Johnny Depp o Depp come si voglia con ste mani insanguinate e questo chiaro oscuro che mi mette un po' de paura de ansia perché è un gotico dark la storia di Sweeney Todd Sweeney Todd you know Sweeney Todd no? allora altra bella cosa come dico sempre di Axe che mette dietro all'etichetta anche riferimento della fragranza quindi quanto è forte secondo loro e quanto è percepibile allora devo dire che secondo mio punto di vista è il giusto perché è affascinante tenebrosa cioè tu vai da sto barbiere non te rendi conto questo via e te fai peggio cose no? quindi c'è questa attrazione verso anche un qualcosa che potrebbe rivelarsi drammatico e cattivo perché no? ma la cosa è barber wood 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 legni ci sono dei legni e la sua piramide olfattiva come puoi notare anche qui è chiarissima abbiamo un talco quindi un classico riferimento al profumo tra virgolette della barberia il muschio l'ambra il limone di Sicilia che torna anche in questa occasione e poi abbiamo la mirra il sandalo eliotropio aspetta che forse non sapete perché Agopro non c'è la messa a fuoco e il paciuli la redice di Orris non sai che è? stop il video apri google e scrivi allora poi abbiamo il miele la vaniglia il muschio di quercia la favadunca e poi abbiamo il legno di agar che sarebbe l'hud e la pelle cioè in questo almeno sapone c'è il mondo allora io la percepisco così poi se tu ce l'hai o l'hai avuta o l'hai snasata dimmi se siamo allineati eh la punta del miele che la rende veramente piacevole attraente la vaniglia anche perché è ovvio la parte del pellame che anche quello ti cattura poi vedi come si presenta il fatto anche di avere questo talco che ti invita insieme alla mirra perché no e anche il sandalo devo dire che poi la parte anche della favadunca rafforza un po' di più diciamo che è un potrebbe virare leggermente verso anche quelle profumazioni che ricordano un po' il discorso tabaccoso dolce per chi ce l'ha avuto il puros non dico il furia perché no lo sento molto più dolce e piacevole attraente c'è mattina proprio è buonissimo poi è come dico sempre questione di gusti personali magari a te questo mix di fragranze non ti piace perché c'è sta il miele che lo senti la parte della pelle è appunto la favadunca che lo rende un po' leggermente tra virgolette fienoso tabaccoso mi permetto il lusso di dirlo ma c'è questo legno quindi immagina immaginiamo lo giusto è fantasia di entrare in questa barberia dove ti aspetta questo con chiaro scuro sta luce tenue classica di Londra anche se io non l'ho mai vista di persona una giornata un po' uggiosa misteriosa questa Londra così ottocentesca non lo so se lo posso dire beh insomma mi hai capito qual è il messaggio che mi ha trasmesso questa bellissima etichetta allora andiamo a constatare anche altre cose sull'etichetta a parte vabbè qui ti ho fatto vedere che c'è la sua piramide olfattiva il discorso della what is eccola la formulazione Osiris altro riferimento alla storia le cose particolare punto particolare secondo me da tra virgolette avere però al periodo giusto è quello freddo secondo me ok allora oggi vi faccio accompagnare dal mio carissimo fedele evo tricolore ammazzato direi che è l'agnevole il parker variant e riprovo un'altra volta io ogni tottavo vado in loop con le lamette ma perché ne voglio provare come dico sempre e secondo il mio punto di vista ogni lamette ogni rasoio risponde in maniera differente con la lametta premetto che la pelle è un po' secca questi giorni cercherò di fare un qualcosa di piacevole per il mio viso allora intanto iniziamo a smontare il nostro carissimo parker variant lo preferisco un pochino di più anche se a livello estetico stiamo lì al mercurio perché ha questo manico molto gripposo molto gripposo e nello stesso tempo mi ci trovo abbastanza bene quindi mi piace pronto scartamento ve rimpicco un'altra volta da aprire sta cosa guarda invece è un piccolo certo tira fuori la lametta ti rendi conto che stanno quelle che te cascano in mano e quelle che devi spacchettar ci ti lavora un pochettino scusa ma ti ricordo che il parker variant come il mercurio ha una tacca di riferimento che va a sua volta innestata con l'altra tacca di riferimento mi raccomando perché se no la regolazione non funziona bene logicamente sarà settata a basse basse quote o mi raccomando non ti perdi i prossimi video perché questa è una novità per me sul mio canale plateale allora c'è a quel viso e iniziamo a lavorare e se vuoi dire così qua devi stare attento a quello che dici e come lo dici allora premetto che è ovvio e logico che avendo il sapone aperto nella parte davanti del lavabo io riesco a sentire a percepire la sua fraganza e questa parte talcata lo rende diverso rispetto ai classici saponi ispirati al cuoio al tabacco e via discorrendo non mi dispiace aspetta però te voglio di una cosa un po' se lo trovo aspetta questa non è specifica aspetta scusami ok perfetto questo pure color marroncino che non mi dispiace affatto eh sì l'odore che tira fuori ricorda un po' i nostri cari furia si furia si furia e un po' il puros solo che ripeto la sfaccettatura potrebbe essere differente perché poi tende ad aprirsi come fraganza quindi diciamo che l'interpretazione super giù è quella quindi quel profumo classico tanto ricercati amati da baccosi che spesso e volentieri dico sempre la stessa cosa nel senso che comunque le profumazioni super giù sono quelle poi è normale che se uno le arrotonda le sfuma le mixa ecco pelo pelo partì avuto il microfono pelo pelo le arricchiscono qualche cosa in più la fraganza diventa differente allora meno diretta e a senso unico rispetto a quelli che ti ho citato prima come fraganze più talcato ma logicamente devi considerare che dentro avendo appunto anche il sandero la mirra l'eliotropio il paciuli il miera la vaniglia è un vaniegato però molto piacevole ecco qua è intrigante perché ripeto l'elichetta ti chiama proprio cioè ti dice un po' un attimo qua penso io e tu ce l'hai pure è bello contento la saponata non è vaporosa è bella corposa ok a posto che evo di che evo niente dai vediamo un attimo la mercur su parker variant come va scusa scusa non è ottantà Beh, devo dire che il suo lavoro lo fa, questa lamettina il sapone ha dato il suo, sta dando il suo piacevolissima, ripeto come è fragranza, però è, ripeto, nuovamente indicata più, secondo il mio punto di vista, più verso l'inverno il talco veramente è quello che arrotonda e rende tutto un po' polveroso, per fatte capire e il miele pure, miele e vaniglia però ripeto, ci tengo che tu lo sappia la parte del diciamo così, della pelle e del quasi tabacco, che non c'è ma c'è la fava tonca che può dare quel sentore, lo ripeto perché se no poi io allora però ho sentito un po' grattare sulla parte mia destra la cosa non me convince più di tanto ho dato una sistemata al baffo, si vede che si vede sui nitrati allora qui un po' un po' di fastidio lo sento allora questa mercur su il variant mi da una sensazione differente non la trovo così piacevole e sento un po' di odore di sangue sarà forse sarà forse perché il set è dedicato a sui a sui nitrati mi sta male di questo no effettivamente non la trovo piacevole su questo rasoio infatti sento che i punti li ho beccati più di uno dove mi sono aperto quindi io vabbè a parte qua c'ho due bollicine tricata l'altra volta ho fatto parecchi passaggi però va bene lo stesso però non sento questa lametta andare come nei rasoi precedenti no pure qua quindi si guarda qua sotto rimango convinto di quello che dico mi dispiace dirò una cavolata dirò una neresia quello che vuoi ma oggi non è andata bene quindi per quello io cerco di stimolarvi e di stimolarti il più possibile a fare prove perché non è detto che la lametta che acquisti in versione 100 pezzi possa magari rispondere bene sui vari rasoi che tu hai io la pelle era pure secca vabbè però quanto oggi dobbiamo tagliare il pelo quindi va bene così però effettivamente oggi non l'ho sentita lavorare come su stiletto o su sintesi quindi non mi ha dato un piacere totale di rasatura ma mi fermo pure non faccio altri passaggi perché se no mi devasto il viso oppure se non c'è un grande bbs va bene lo stesso mi devo fermare perché se no mi faccio male quindi vedi non è una regola scritta non è la pura verità però io oggi con la mercure che di solito utilizzo con piacere fino ad adesso utilizzata con piacere oggi sul variant si è fatta sentire parecchio e te l'ho pure detto appena ho iniziato ho detto guarda che sulla parte mia destra sto sentendo un po' di fastidio per quanto riguarda la fragranza del sapone è veramente molto 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 buona quindi ripeto se ti piacciono i diciamo così legnosi coiosi e tra virgolette speziati stanno accantando non so se stavano a me e barberwood potrebbe far per te anche ripeto solo l'etichetta per me merita l'acquisto del sapone niente è andata così oggi è andata così eh mi devo fermare perché mi fa sento fastidio sento un fastidio non dico esagerato però lo sento allora andiamo ad aprirlo la fragranza dovrebbe essere la stessa in teoria se il disegno è quello il dopo barba è sempre lo stesso aspetta un po' un attimo intanto guarda la mole di pelico ho tolto allora esti se sente si era da tanto che non sentivo sta sensazione fastidiosa allora buono dolce al punto giusto poi devo aspettare un attimo che prenda fiato aria perché la parte alcolica deve evaporare cercarevo che oggi chi so come canta il barbiere maledetto allora nella versione aftershave aftershave devo dire che la fragranza è almeno quello che sento meno prepotente un po' più tenue però piacevole aspetta perché te devo dire una cosa te la devo dire bene se non te lo direi che te la dico però la sfaccettatura su per giù è quella ripeto meno potente secondo me punto di vista quindi meno intensa rispetto a quello che diciamo così sono abito da sentire sugli hacks ma quello loro te lo dichiarano direttamente qua poi quindi però è piacevole diciamo che boh non lo so ma lascia un po' così un po' così nel senso che mi aspettavo proprio una pezza scusa se ho fatto questo schiocco ma però è piacevole un po' tenue di verità un po' tenue però se non vuoi avere quell'odore forte massiccio no del appunto della fragranza di cuoio pallame tabacco quello che te pare potrebbe andare bene per me una puntina più alta era al top però la parte dolce poi rimane se sente però non è fortissima quello che toglie fa capire quindi se cerchi una cosa che sia a livello potrebbe fa pettire potrebbe però la parte ripeto quella dolce milosa della vaniglia della fama tonca se sente certo non spicca però c'è sta beh niente che devo dire allora fragranza del sapone a me piace dopo barba ripeto mi aspettavo una cosa un po' più prepotentina le la mette oggi mi hanno purgato come se non ce ne fosse un domani e il parker variant me sa che aspetta che c'è una batetta più alta dell'altra macello aspetta ok fatto quindi basta sanguinare non ce ne fosse un domani caramellosa caramellosa no caramella dolce dolce mielosa però me l'aspettavo più alta vabbè comunque è buona a prescindere nel senso se ti piacciono queste fragranze potrebbe andare bene per te me l'aspettavo più alta devo essere onesto vabbè detto questo io ringrazio come al solito te 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 per aver visto il video fino a questo momento noi ci vediamo al prossimo video con una novità che non ho mai ancora portato sul mio canale sempre riguarda riguarda delle marche produttrici quindi non ti aspetta chissà che cosa e niente vabbè dai subito oggi si è fatto si è fatto vedere è l'anima sua potrei dire l'anima vabbè devo chiudere così hai capito cosa bebe è un modo sai ma purgato ciao ciao Grazie a tutti.